In questa sessione parleremo della formula esatta che crea la felicità a lungo termine, dell'infellicità, di cosa crea sofferenza e di come possiamo evitarla. Di metodi contro l'infellicità ne esistono tre. Come l'ho scoperto? Perché ho parlato con più di 4 milioni di persone provenienti da più di 100 paesi in tutto il mondo durante i miei seminari live e ho visto tutto quello che potete immaginare. Dalle persone più di successo a quelle che attraversano sfide impegnative, ho incontrato persone che avevano problemi di personalità multipla, fino a 52 personalità, ed altre invece prive di personalità, che forse è ancora più grave. Se vogliamo essere felici, dobbiamo capire qual è il nostro fine ultimo, il nostro piano di vita. Per esempio, il piano di alcune persone può essere impegnarsi molto a scuola, essere una buona persona, prendersi cura di sé, trovare l'uomo ideale, innamorarsi e avere tre figli. Mentre l'obiettivo di qualcun altro potrebbe essere quello di eccellerare il college, lavorare per una grande società, fare carriera, diventare il capo di un'azienda e diventare una persona che si fa rispettare. Ma queste sono solo alcune storie. Ovviamente tutte le storie sono diverse. Noi abbiamo diversi archetipi, ma ne esiste uno che ci accomuna. E cioè, che se veramente vuoi essere qualcuno, devi per forza raggiungere un grande obiettivo. E lo si può fare in modi diversi. Fondando un'azienda a 25 o 26 anni, inventandosi una speciale tecnologia, oppure desiderare di diventare un eccellente dottore. Noi viviamo in una cultura, quella occidentale, che insegna le persone che non sono nessuno, a meno che non realizzino grandi obiettivi, speciali ed unici. E poi diamo l'etichetta speciale ed unico, in modi strani. Ad esempio, un'insegnante di scuola non è forse speciale e unica? Una madre che si prende cura dei suoi figli notte e giorno, rimproverandoli, prendendosi cura della loro crescita, non è forse speciale? Bene, viviamo in un mondo dove trattiamo le insegnanti come se non fossero nessuno. E le paghiamo di conseguenza. Mi domando il motivo per cui spendiamo migliaia di dollari in oggetti come computer. E non investiamo nelle insegnanti, che sono le persone più vicine ai nostri figli. Viviamo in una società dove le persone ti guardano e ti dicono ma sei solo una casalinga o solo una madre. Uno dei problemi che abbiamo nella nostra società non è quello di avere un approccio giusto o meno alla vita, ma è il fatto di volere che tutte le persone rientrino nell'idea di successo a tutti i costi. Voglio rivelarti la formula della felicità, è veramente semplice. Non te la dimentichi mai più. Per qualsiasi area della vita in cui tu ti senti soddisfatto, il motivo è che la tua condizione attuale rispecchia il piano che avevi in mente. Cioè c'è corrispondenza tra ciò che volevi e quello che hai. Per esempio, una persona può dire io sono molto soddisfatto del mio fisico, anche se il mio fisico non è perfetto. Non è necessario infatti che sia perfetto, ma che combaci con la sua idea. Ora sono molto meglio di come ero. Sono in forma, forte ed energico. La mia idea dice io devo essere in forma. Non devo essere perfetto, ma in forma. Se nella mia vita il mio fisico combacia con l'idea che avevo di come avrebbe dovuto essere, io mi sento realizzato. E se chiedo a qualcun altro di cosa ti senti soddisfatto? Lui può dirmi sono molto soddisfatto della mia carriera. Perché? Perché sto facendo meglio di quello che pensavo. Io lavoro in questa azienda, ho questa capacità, ed è persino meglio di quello che pensavo. Ma ancora una volta, questa persona è felice di quest'area della sua vita, perché la sua carriera è anche meglio di quello che si aspettava nei suoi piani. È meglio di quello che avrebbe dovuto essere nella sua testa. E se è veramente meglio, tu ti senti sulla luna. Puoi arrivare a dire non sono mai stato così felice nella mia vita. E come mai? Perché ho finalmente quest'uomo nella mia vita. Con lui posso essere me stessa. Abbiamo un'intesa perfetta. Possiamo stare insieme tutto il tempo e non mi annoio mai. Qual era il tuo piano? Volevi stare con qualcuno di cui eri innamorata. Non volevi stare con nessun altro, ma solo con lui. Il tuo piano e la tua relazione attuale combaciano. È persino meglio di quello che ti immaginavi. Ecco, in quel momento sarai completamente entusiasta. Ma adesso prova a pensare a questo. Qual è un'area in cui non ti senti soddisfatto? Proviamo a cercare di decodificare l'infelicità. Per essere felice devi andare incontro alle tue aspettative. Per essere felice non devi essere perfetto. Ma almeno uno dei settori della tua vita deve combaciare con il piano che avevi. Con l'idea che ti eri fatto. Cosa ti fa sentire male? Cosa ti crea? Dolore? Stress? Frustrazione? Rispondi a questa domanda. Qual è l'area della tua vita in cui tu non ti senti felice? E sii onesto con te stesso. E anche se la tua vita va meravigliosamente bene, sono sicuro che c'è un settore in cui desidereresti migliorare. Per esempio, se sta andando bene la tua carriera, forse non ti prendi troppa cura del tuo corpo, non spendi abbastanza tempo con i tuoi figli, o forse spendi molto tempo con i tuoi figli, ma la tua relazione invece non va molto bene. Perché la natura degli esseri umani è quella di focalizzarsi sull'area in cui si sentono forti, tralasciando invece quella in cui si sentono meno forti, adducendo come scusa che non hanno tempo. Qual è l'area della tua vita in cui non ti senti felice? Sii onesto. Quella che non ti piace, per cui diresti voglio di più. Come posso chiudere il gap tra ciò che ho e ciò che desidero? Questo è il punto in cui mi trovo adesso. E questo invece è quello che voglio essere. C'è questo gap. Quindi qual è l'area in cui tu non ti senti felice? Si tratta del tuo corpo, delle tue finanze, della tua carriera, della tua vita spirituale, dei tuoi figli? Qual è l'area della tua vita in cui senti che non sei nel punto in cui vorresti essere? E poi, pensa, perché non sei felice in quest'area della tua vita? Sii specifico nella risposta. Puoi fermare il video e scrivere o continuare e ti dirò che cosa succede. Quando faccio questo esercizio, alle persone non piace molto e rispondono non mi piace il mio corpo, le mie finanze, non mi piace il mio lavoro, non mi piace la mia relazione, la mia carriera. Perché? E le persone scrivono i loro pensieri. La formula dell'infelicità è semplicemente questa. Quando la tua condizione di vita, il modo in cui stai vivendo, non è uguale al tuo piano, all'idea che ti eri fatto. Ti senti frustrato, senti questo dolore. Sei molto differente, la frustrazione è profonda. Sei leggermente diversa, ti senti solo stressato. Le persone si alzano in piedi e io allora chiedo, qual è l'area della tua vita di cui non sei soddisfatto? Qualcuno dice, non sono felice per la mia situazione finanziaria. Sto facendo peggio ora di quanto non facevo cinque anni fa. Ho fatto degli errori nel business. Ora avrei dovuto avere questi soldi, ma invece mi ritrovo con questo. E sto impazzendo. E sai perché? Perché non hai raggiunto gli obiettivi stabiliti? No, non è questo. È perché quando hai un'idea in testa e poi realizzi di avere fatto la cosa sbagliata, quindi la tua vita non combacia con quello che avevi in mente, ecco che impazzisci. Pensa un attimo a questo. Prova a pensarci. Se sei cresciuto prendendoti cura di piegare i tuoi vestiti, di prepararti i pasti, di andare a fare la spesa, fare le faccende di casa, buttare l'immondizia e lo hai fatto per tutta la tua vita, non pensi di avere problemi economici perché non ti sei mai permesso una signora delle pulizie. Ma se invece sei cresciuto in un ambiente dove tutto questo veniva fatto da qualcun altro e tu all'improvviso devi lavorare duro pagando un sacco di bollette, la casa, che è sporca, i vestiti che non sono piegati, beh allora potresti sentirti frustrato. Sai perché? Perché l'idea di vita che avevi non combacia con la realtà. Questa è la tua scelta. Se stai soffrendo, se provi dolore, se la tua vita non combacia con l'idea che ti eri fatto e pensi che non puoi cambiarla, allora hai diverse possibilità. La prima, incolpare qualcuno. Il gioco delle colpe è solo un gioco distruttivo, non è la soluzione. Per un momento ti senti ok, ma poi non cambia nulla. Quali sono le scelte reali? Ne hai solo due nella vita. Quando la tua vita non combacia con il tuo piano, devi cambiare la tua vita e questo è quando dici il mio corpo non è come vorrei, bene, mi andrò ad allenare, la mia relazione non è come desidero, bene, la cambierò, farò di tutto per cambiare le cose, acquisirò nuove competenze, tornerò a scuola, inizierò un nuovo business, insomma farò qualcosa. Devi fare qualcosa che cambierà la tua vita oppure al fine di essere felice, se non puoi cambiare la tua vita, devi cambiare il tuo piano. Di solito nella vita devi fare un po' tutte e due le cose, se tu cambi la tua vita o cambi pure il piano, se necessario, puoi avere una vita straordinaria. Anni fa ho lavorato molto con persone famose nel campo degli affari, con delle celebrità ed ero con un gruppo di persone, un gruppo di celebrità abbastanza importanti, ma non voglio entrare nella loro privacy, non vi darò troppi dettagli. Tra queste c'era una persona di estremo successo, era una donna estremamente attraente, una donna con grandi capacità, dotata di talento, sexy, benestante e con tanti amici. E questa sarebbe per molte persone già la condizione ideale. Se la tua vita combacia con questa descrizione, tu devi avere sicuramente una vita straordinaria, ma quasi per ironia questa persona era depressa. come puoi essere depressa se sei intelligente, forte, bella, hai tanti amici, sei ricca e sei famosa. Bene, è molto semplice. Le persone dicevano non sappiamo cos'è, non sappiamo come aiutarla. È andata da consulente, ha fatto cure, ma nulla sembra funzionare, non riesce a uscire da questa depressione. Ma questa è una cosa comune, perché se tu cambi il tuo fisico, ma ancora continui a vedere che il risultato non combacia con il tuo piano, ti sentirai impotente e depresso. E allora io chiesi di vedere questa persona, perché ero sicuro che avrei potuto aiutarla. Come farai, Tony? E io risposi, posso aiutarla perché io so qual è il problema. Io so che una persona si sente depressa quando realizza che la sua vita non è come avrebbe dovuto essere nel suo piano. Io non so qual è il suo piano, ma lo scoprirò. L'aiuterò a cambiare la sua vita, il suo piano o entrambi. Per farla breve, lei venne da me e per la prima mezz'ora si scusò dicendo, io so che è una cosa sciocca essere depressa, non so perché lo sono. Io so che dovrei essere grata per quello che ho. E disse tutta questa serie di motivi per cui avrebbe dovuto sentirsi felice ed invece non lo era. e allora io cercai di spiegarle, ascolta, non mi importa di questo. Mi interessa solamente di te. Il fatto che tu non sia felice non ha nulla a che fare con quello che hai o che non hai. Tu non sei felice perché la vita che hai non combacia con quello che pensavi avresti avuto. Hai qualche idea di come avrebbe dovuto essere? Se ti senti depressa è perché senti che non sai come cambiare le cose, ti senti un incapace. E allora lei mi guardò in un certo modo e mi disse che cosa vuol dire? E io come vuoi che sia la tua vita? Questa è una domanda stupida. Ed io non è stupida per me. Lei disse beh, ho sempre pensato fin da quando ero piccola che mi sarei sposata, avrei avuto tre bambini perfetti che mi avrebbero amato e ugualmente avrebbe fatto mio marito. e io dissi ok, allora cosa non ha funzionato per te finora? Beh, io penso che tu sappia. Vi ricordo che lei è una persona abbastanza famosa e ci pensò due volte poi mi disse non ho bambini e vi dico che lei aveva un'età in cui avere bambini in modo naturale non accade a meno di un miracolo della medicina. E allora le dissi perché non adotti un bambino? Mi rispose no, non è la mia idea. Vi ricordate quando nella sessione precedente dissi c'è sempre un problema in superficie e poi uno più profondo e allora chiesi come vedresti il fatto di non avere un marito ma invece di avere dei bambini? Mi rispose sì, mi piace questa alternativa e io ma perché non adotti un bambino? E mi disse no, voglio un bambino con il mio stesso sangue. Allora continuai ad indagare cosa ci fosse dietro il suo progetto di vita. Allora le chiesi come pensi di avere questi tre bambini e perché devono avere il tuo stesso sangue? Perché io penso che dei bambini con il mio stesso sangue mi ameranno per sempre e non mi abbandoneranno mai ma che cosa stai cercando? Amore incondizionato. Lei aveva questo piano straordinario una grande casa bambini perfetti tutte queste belle cose ma ciò che c'era dietro era in realtà il bisogno di avere quell'amore che pensava fosse per sempre. Io potevo aiutarla a soddisfare quel bisogno. le dissi forse il motivo per cui non hai un marito è perché ogni volta che incontri un uomo sei ossessionata dell'idea di avere quei tre bambini e il tuo stress si avverte già dallo sguardo. Lui avverte cosa c'è nella tua testa anche se non lo esprimi a parole e lei cominciò a ridere ammettendo che forse era stato così molte volte nella sua vita. Le persone che le stavano intorno si domandavano perché fosse così nervosa. Il motivo era perché sentiva che il tempo per realizzare il suo piano stava scadendo ma io dissi tutto quello che vuoi veramente è l'amore non hai forse abbastanza amore nella tua vita parlami dei tuoi amici e piano piano cominciai a vedere che quell'amore che lei voleva raggiungere a tutti i costi era già lì solo che non combaciava con l'idea che si era fatta tuttavia potevamo creare un'immagine diversa della sua vita e forse quella nuova immagine poteva soddisfare quel suo bisogno più profondo. non so direvi quante persone ho incontrato la cui vita non combaciava con la loro idea e non riuscivano a raggiungere quell'obiettivo stavano malissimo erano tristi per questo profondamente frustrati e a un certo punto un giorno hanno aperto gli occhi e hanno realizzato grazie a Dio che non è successo qualche volta non realizzare il nostro piano è la cosa migliore che possa accaderci perché la delusione ci porta a scoprire qualcosa di molto più interessante dentro di noi e ci fa concentrare su questo aspetto diverso della nostra vita ad esempio l'aspetto spirituale o quello della famiglia o quello fisico se ti fidi del fatto che la vita non accade a te ma accade per te allora puoi trovare in ogni situazione un qualcosa di buono che porterà la tua vita ad un livello superiore ciascuno di noi affronterà nella vita un momento particolarmente drammatico in cui sente che qualcosa gli è stato tolto la vera domanda è come gestirai la cosa due persone attraversano lo stesso momento di stress una verso la distruzione e un'altra invece cresce quelli che crescono non si arrendono non trovano scuse trovano il modo di superare le cose qualsiasi cosa comporti questa è la mia missione grazie a tutti grazie a tutti